Penso che non ci siano giustificazioni per quello che ha detto, ha fatto le scuse, c'è stata ovviamente l'espulsione, io non ho altro da aggiungere, sono affermazioni che non si possono minimamente giustificare, non si fanno punto e basta quelle affermazioni. Nemmeno uno che lo conosce bene come il governatore del Veneto gli ha lasciato qualche possibilità di sorta, ma c'è da credere che il caso di Fabiano Barbisane, espulso dalla Lega per le sue frasi sciocca focus su donne e uomini di colore, tenga ancora banco nei prossimi giorni. Almeno finché non si saprà il suo futuro, forse verso altri lidi politici che in molti prima dello scandalo vedevano colorati di azzurro Forza Italia. Ma dopo quanto accaduto c'è da credere che il segretario Veneto Flavio Tosi voglia tenersi alla larga da scelte che aprirebbero un fronte di forte discussione interna al partito in progressiva rimonta in Veneto. L'unica cosa certa è che il 69enne consigliere regionale è fuori dalla Lega, decisione ratificata a giorni. E un'altra ricostruzione è che il numero uno del carroccio Veneto, Alberto Stefani, abbia colto la palla al balzo per togliere di mezzo uno dei leghisti contestatari della nuova linea, viste le polemiche per il mancato voto al congresso regionale. Stefani, oggi nella sua Borgo Ricco, ha glissato ogni commento ulteriore rispetto al freddo comunicato con il quale ieri ha espulso Barbisan, che invece ha ricevuto una chiamata da Zaia. L'ho sentito ieri sera, gli ho telefonato, lui è assolutamente preoccupato e anche rammaricato di tutto quello che ha fatto. E mentre sui social più di qualche politica donna chiede a Barbisandi di mettersi anche da consigliere regionale, resta, ampliando il discorso, una riflessione proprio delle donne in politica su certi limiti ormai insopportabilmente superati. Io credo che oggi il vero problema sia che comportamenti come questi mettono in difficoltà quello che è l'immagine di una pubblica amministrazione e di un'istituzione. Il tema però è proprio vivere in questo circo mediatico dove si dimenticano alcuni fondamentali, mentre soprattutto chi è nelle istituzioni deve, secondo me, avere rispetto della dignità di ogni persona. Grazie a tutti.